Il pensiero che abbiamo a fine gara, che una bimba di due anni per colpa del Covid purtroppo è venuta a mancare, quindi noi come società, come allenatore, io come papà siamo molto vicini alla famiglia, tutto questo perché comunque al di là del calcio poi succedono queste cose che sono molto brutte in questo momento, solo questo. Buonasera Minister, sono qua, Carlo Chiesa, 12 TV Parma, ci avete creduto fino alla fine? Avete ottenuto quello che pensavate di ottenere o stava perdendo le speranze? Non credo perché comunque la squadra secondo me nel primo tempo si è imposta anche nel gioco creando superiorità, abbiamo creato pure tante situazioni dove potevamo fare meglio l'ultimo passaggio, abbiamo avuto tanti calci piazzati, quindi c'era un po' di dominio a livello di gioco contro un Parma comunque che è una squadra comunque a livello tecnico, fisico, giocatori di un'altra categoria. La squadra si è comportato bene per come noi siamo messi in classifica, sapevamo tutte le difficoltà che potevamo affrontare, però la squadra ci ha creduto fino all'ultimo e nel secondo tempo al di là di qualche situazione dove magari poi dopo dobbiamo rivedere cosa ci manca e tutto il resto, però i ragazzi secondo me l'hanno voluto a tutti i costi questo pari. Un allenatore può preparare fino in fondo una partita dal punto di vista difensivo, poi arriva un colpo di classe come quello di Vázquez e tutto cambi? E quello purtroppo determina perché quando hai giocatori con una classe così è normale che poi dopo ti può tagliare le gambe, però i ragazzi sono stati bravi anche a fine primo tempo, loro erano convinti di fare una grande gara, poi i ragazzi che sono entrati secondo me sono entrati anche bene nel contesto, anche se qualcuno come Marras è arrivato proprio ieri sera, quindi nel contesto si è calato subito. Carbo è entrato bene, Marici da primo punto ha fatto bene, quindi abbiamo creato pure delle situazioni dove anche l'arbitro secondo me è da rivedere un pochettino, però ci sta, sono scelte che si fanno, andiamo avanti. Qual è la situazione, era la mia ultima domanda, in area di rigore, su quale situazione state recriminando di più? Secondo me anche sul controllo di petto di Marici, un attaccante guarda la palla, non guarda l'avversario che gli passa davanti sicuramente, poi sull'azione di Carbo dobbiamo andare a rivedere bene, poi sono scelte, c'è il VAR, quindi noi per la situazione dove siamo, è dura, è dura per noi, però i ragazzi ci credono, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di fare punti con tutte le squadre che andremo a affrontare. Buonasera mister, Marco Bernardini, Gazzetta di Parma, oggi ha segnato Marras, quali sono le impressioni sui nuovi acquisti, alcuni arrivati proprio nelle ultimissime ore? Tramite la società comunque abbiamo scelto dei giocatori che nel contesto ci possono dare una mano, con caratteristiche totalmente diverse di quelle che avevamo magari nel giorno d'andata, adesso piano piano dobbiamo lavorare anche se in questo mese abbiamo una serie di partite uno vicino all'altra e quindi la rosa è una rosa adesso molto più ampia dove possiamo girare tanti giocatori, dove abbiamo anche doppi ruoli e in qualche ruolo abbiamo anche qualche giocatore in più, quindi serve tutto, servono tutti i giocatori a disposizione per tirarci fuori da queste situazioni. Come le è sembrato il Parma? Il Parma è una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento, specialmente quando recuperano palla bassa, se cerchi di forzare la giocata loro sono bravi anche nelle ripartenze, specialmente con Vasquez che è un giocatore che comunque ti crea sempre qualcosina, però noi oggi come atteggiamento, come voglia, come situazioni penso che l'abbiamo messi pure in difficoltà in tanti momenti. L'ultima da parte mia, a livello personale, come ha vissuto il ritorno da ex al Tardini? No, è bello, non ritornavo da tanti anni, quindi è bello ritrovare di nuovo tanti amici che lavorano ancora nel Parma, siamo salutati, ho vissuto un anno e mezzo bellissimo qua a Parma con giocatori veramente di altissimo livello, con Giovinco, Mauri, Palladino, cioè eravamo una squadra veramente forte dove anche ci siamo tolti delle soddisfazioni quegli anni.